I peggiori momenti della storia della Juventus. Ecco, partiamo subito con la prima posizione, perché peggio della finale di Berlino per me non c'è niente. Addio di Buffon. Allora, mi ha fatto abbastanza male, mi ricordo che mi è uscita anche qualche lacrima. Lo metto in quinta posizione. Addio di Del Piero. Rispetto a quello di Buffon me lo ricordo di meno. Avevo 11 anni nel 2012 e ancora seguivo il calcio con un certo interesse. Sesta posizione. Finale di Cardiff. Per forza di cose, seconda posizione. La differenza con quella di Berlino è che, mentre a quella di Berlino io ci ho creduto fino all'ultimo, a quella di Cardiff il gol di Casemiro mi spezzò proprio le gambe. La Juve non scese in campo il secondo tempo e quindi mi ha fatto meno male rispetto a quella di Berlino. Napoli-Juve 5 a 1. Non so il perché l'abbiano inserita in questo filtro. Decima posizione. Avevo due anni. Finale con il Milan nel 2003. Nona. Mamma mia, questa partita. Questa pesantissima. Me la ricordo benissimo. La Juve fece un partitone per 70-75 minuti. Poi suicidio totale. Per me è da top 3. Bayer-Monaco-Juve 4 a 2 per me è da top 3. Questa è la penalizzazione. Non mi interessa. Ottava posizione. Fallo di Benatia. Eh, questa se la gioca con il Bayer-Monaco. Però la differenza è che qui hai fatto un figurone a prescindere. 3 a 1 al Bernabeu contro qui al Real Madrid. Però quel rigore all'ultimo è stato come una pugnalata al cuore. Quarta posizione. E settima. Calciopoli. Ero troppo piccolo, non me lo ricordo. Settima posizione. Devo dire che è uscita bene. Ero troppo piccolo, non me lo ricordo bene.